Buonasera a tutti e benvenuti. E qui come ce la giochiamo con il discorso aiuti umanitari, migranti, navi Aquarius, altra indagine nei confronti di alcune ONG e quindi anche di navi utilizzate per avvistare e prendere a bordo i migranti per poi portarli, abbiamo visto Italia per lo più, poi c'è Malta, poi c'è la Spagna, poi ci sono tutte le problematiche di diritto internazionale nel Mar Mediterraneo. Però ecco che non stiamo parlando adesso di migranti, ovvero persone fisiche, sbarchi, non sbarchi, identificazioni, profughi, aiuti umanitari, fuga dalla guerra, ma stiamo parlando di un'altra indagine promossa dalla Procura di Catania su una sorta di illecito smaltimento dei rifiuti di questa nave. Ora, due immediate campane suonano. La campana del diritto o comunque del codice penale o comunque dell'azione da parte di una Procura, qualora vi siano notizie di reato e quindi le indagini, le valutazioni, eventualmente la richiesta di punizione con un processo ed eventualmente in caso di dimostrazione di questo illecito smaltimento di rifiuti la condanna. Questo perché sono stati, se non ero adesso indagati, determinati rappresentanti sia di medici senza frontiere, credo, il sequestro preventivo della nave Aquarius attualmente nel porto di Marsiglia e alcune persone, se non erro, il comandante, il primo ufficiale dell'Aquarius, altri 8 membri di medici senza frontiere, il vice capo Missione Italia, il vice coordinatore nazionale e la detta all'approvvigionamento, il liaison officer, coordinatore di un progetto, coordinatore logistico, delegato alla logistica, coordinatore del progetto a bordo della nave, persone di nazionalità italiana ma anche straniera. Ma questo perché? Dicevo per l'illecito smaltimento di rifiuti, quindi campana della procedura, campana della politica, campana del sociale, ma cosa state facendo? Ma è un'indagine senza alcun senso, ma ridendo andiamo a vedere i rifiuti della pattumiera che vengono buttati forse in acqua e che ridere, adesso la procura si mette a indagare per queste cose, come quando di notte vediamo le persone che girano con i sacchettini, con dentro il tonno la pasta avanzata, i pomodori e il sacchettino che lo vai a buttare da qualche parte per non fare la raccolta differenziata. Quindi si ride da una parte, si parla di comportamento inaudito da una parte, si parla di indagine strumentale da una parte, si avvia una procedura di legalità dall'altra perché se una procura indaga ribadisco alle proprie motivazioni, poi ribadisco sempre queste proprie motivazioni potranno portare a un processo o a un'archiviazione. Però ecco da quello che si capisce, poi non stiamo parlando del sacchettino con i pomodori del tonno buttato magari dalla tolda della nave nel mar Mediterraneo e così scoperto. Stiamo parlando di cose un pochino più serie, sempre da parte di questa indagine, perché si parla comunque di 24 mila chili di rifiuti, non di 24 sacchettini. Si parla di indumenti contaminati indossati dagli extracomunitari, di scarti alimentari di rifiuti di quanto utilizzato in assistenza medica, di scarti di rifiuti legati anche a rifiuti pericolosi, rifiuti cosiddetti sanitari, rifiuti cosiddetti a rischio infettivo che più o meno derivano anche dalle attività di soccorso dei migranti. E quindi non è una sanzione, non avete messo la carta nella carta, nella plastica, nell'umido con i bidoncini. È un po' forse più grande la notizia di reato, l'accusa, l'indagine. E anche per questo la procedura è una procedura assolutamente standard che in questi casi viene attuata e adesso poi sociale e politica da una parte tutti contro la procura di Catania che è cattiva o che comunque sta facendo il gioco di qualche cosa. La procura non è cattiva, nessuna procura è cattiva, nessuna procura sta facendo il gioco di qualcun altro, semplicemente ciascuna procura fa il proprio lavoro che poi inevitabilmente possa piacere a una parte politica o a un'altra parte politica. Però ribadisco sempre dai vari uffici di sanità marittima, siciliani, sud Italia, intervenuti all'arrivo dei migranti nei porti italiani, comunque sono stati rilevati, dico pare, perché le cifre poi possono essere magari anche diverse, 5.088 casi sanitarie a rischio infettivo. Si parla di scabbia, si parla di meningite, si parla di tubercolosi, si parla di AIDS, si parla di sifilide, su 21.326 migranti sbarcati. Questo è il nostro campo di ragionamento, questo è il nostro campo di indagine, non sono i quattro sacchettini e allora vi sarà un procedimento penale o non vi sarà un procedimento penale. Lasciamo lavorare la procura di Catania. Grazie.